is this rare questa carta in origine uscì da ex deoxys tuttavia ai tempi nintendo decise che andava fatta anche in versione promozionale per cui nell'artwork è stato messo il bellissimo loghettino pokemon decimo anniversario per questo trainer space center numero 91 di 107 da ex deoxys che diventa una carta promozionale grazie a questo loghettino che incontriamo anche sulla promo black stars black star pardon nintendo numero 12 questo bellissimo pikachu ma secondo me bellissimo sono entrambe tu che dici trovi queste carte e tutte le carte singole di pokemon gioco di carte collezionabili sul nostro sito lbp collecting punto it ci vediamo alla prossima goodbye